Signor Trecari che ci illustra le ultime iniziative del Comitato sull'aumento dei prezzi del teleriscaldamento. Sì, è il caso di rendere dotta ai cittadini Tirano e Sondolo, utenti di teleriscaldamento, quello che è avvenuto negli ultimi giorni, nell'ultimo mese. Allora noi partiamo dal 30 di ottobre, giorno in cui i due sindaci Tirano e Sondolo si sono riuniti in conferenza e hanno effettuato l'annullamento della delibera che avevano preso l'anno scorso, rideliberandola quasi negli stessi termini. La cosa direi che fa del male a noi cittadini è quella che, stilando l'atto, i due sindaci ritenevano che questo atto veniva fatto anche per consentire alla società di continuare a fornire il servizio pubblico essenziale in condizioni di tranquillità, mentre non facevano nessun accenno alle condizioni economiche molto difficili in questo momento da parte dei cittadini di Tirano e Sondolo. Noi, Comitato, a nome di tutti i cittadini, abbiamo fatto un nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in data 26 novembre contestando tutto quanto deliberato dai due sindaci. Sia il Comune di Sondolo in data 3 dicembre con delibera 146, sia il Comune di Tirano in data 10 dicembre con delibera 163, hanno contro ricorso al ricorso dei cittadini per motivi aggiuntivi davanti al TAR, motivandolo con una frase che fa anche sempre molto male perché considerano l'interesse del Comune di Tirano e di Sondolo a resistere nel giudizio davanti al TAR. E noi cittadini ci stiamo chiedendo quali possono essere gli interessi dei due Comuni. I due Comuni sono loro stessi utenti in grande misura perché tutti i servizi pubblici sono serviti da teleriscaldamento e un maggiore aumento va a gravare sicuramente sui costi di riscaldamento dei due Comuni, costi che poi vanno a ricadere sempre sulla cittadinanza. Io credo che il primo interesse sia quello dei cittadini e siamo consolati o quantomeno vediamo che altre amministrazioni la pensano in un altro modo, vedi Santa Caterina che nel prendere le sue delibere sia lo scorso anno e sia quest'anno negando ogni e qualsiasi aumento alla società di teleriscaldamento, che poneva come unica condizione il momento economico difficile e che il peso di queste cose sarebbe andato a gravare sui cittadini in un momento in cui cassa integrati non occupati si sarebbero trovati in difficoltà enormi.